Fine settimana molto intenso per Forza Italia, una Forza Italia che si è ritrovata unita, compatta. Ieri il Comitato regionale ad Oristano con amministratori, sindaci, consiglieri regionali, responsabili provinciali che ha fatto il punto sugli appuntamenti che ci aspettano sulla campagna elettorale, sulla fase congressuale. Oggi una grande manifestazione a Cagliari che ha dato dimostrazione di compattezza e unità, una grande partecipazione sui temi che riguardano la Sardegna, su tutto ciò che riguarda il governo regionale e la strada per uscire dalle paludi nelle quali il centro-sinistra ci ha portato. Io sono di rientro da Parma perché prossimamente su questi schermi ci saranno grandi novità. Chi dice che i 5 Stelle sono i padroni dei social, sono gli esperti dei social? Chi dice che Salvini è un grande comunicatore? Ebbene, probabilmente sì, ma vedrete ci saranno belle novità e sorprese in arrivo anche per Forza Italia, direttamente da Parma. A presto su questi schermi. Ciao a tutti.